Si chiama OIRS, origine italiana, residuo zero, il progetto promosso da Molini Fagioli, azienda di magione attiva nel campo delle farine di grano tenero, per un prodotto di filiera agricola certificata interamente Umbra, nell'ottica della sostenibilità ambientale. Beh sì, quando si parla di sostenibilità, di qualità, io credo che si pone l'accento su due vie maestre, vie maestre che possono costituire lo scenario verso il quale puntare a un forte rilancio dell'agricoltura e costruire l'agricoltura del domani, che sarà un'agricoltura sempre più attenta appunto alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità ambientale, quindi anche all'impatto che si determina nel ciclo produttivo. Sì, la sostenibilità che non deve essere solo uno slogan, ma deve essere sostenibilità vera e per cui la sostenibilità deve essere innanzitutto sostenibilità economica, soprattutto per i produttori che sono il primo anello della filiera e sono coloro i quali sono più meritevoli di avere una dignità economica per i loro prodotti che fanno con la cura e la passione che li contraddistingue.